A Sassari è già possibile richiedere i contributi regionali per il canone di locazione dell'anno 2021. Sul sito del Comune sono pubblicati il bando e il portale attraverso il quale inoltrare le domande entro e non oltre il prossimo 14 gennaio. Il contributo è accumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione, compreso il reddito di cittadinanza. Quest'anno vi sono due novità principali. Per presentare le stanze esclusivamente online è necessario essere in possesso dello SPID. Le domande presentate con SPID non intestato al richiedente saranno infatti escluse. La seconda novità riguarda l'introduzione di una terza fascia riservata a chi ha subito danni economici a causa della pandemia. Destinatari sono quei nuclei familiari con ISEE pari o inferiori a 35.000 euro, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. Per la fascia Covid l'ammontare del contributo non può essere superiore a 2.320 euro e per essere ammessi i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Le richieste possono essere inviate anche tramite le organizzazioni sindacali degli inquilini.